Salve, sono Sergei Nikitsynrimski, sono storico di città del Novecento e stasera passeggiamo per una via più particolare di Berlino, Karl Marx Allais. E siamo qui con Giampiero Piretto, anche lui storico di cultura sovietica, autore di bellissimi libri che da tanto tempo appassionato di Berlino. Siamo alla Frankfurter Tor e stiamo cominciando la nostra passeggiata sull'asse monumentale di Berlino dell'est. E praticamente la tua visione, perché quello che ci manca spesso quando vediamo queste facciate un po' malinconiche, nostalgiche, degli anni cinquanta, è proprio l'idea come funzionava questo spazio quando c'era ancora il muro di Berlino. E dunque penso che dedichiamo questa orretta a scoprire e scoprire e guardare questi spazi. Prima di tutto volevo chiederti quando sei precipitato a Berlino per la prima volta? Allora io sono arrivato a Berlino per la prima volta nel 1979. C'era ancora il muro, ma gli anni della costruzione della Karl Marx Allais, che originariamente si era chiamata Stalin, erano già abbastanza lontani, però c'era ancora il socialismo, la città era divisa dal muro. Sono venuto a Berlino per un convegno di insegnanti di lingua e letteratura russa che si teneva nel prestigioso Palazzo della Repubblica. Il Palazzo della Repubblica era organizzato dall'Unione Sovietica come quasi tutto quello che succedeva all'epoca e ho avuto l'onore e il piacere di parlare in quel monumento che oggi è stato abbattuto, è stato cancellato, però ho vissuto anche perché ho fatto amicizia con un collega, un docente di russo all'Università Humboldt di allora, tra gli organizzatori del convegno che abitava ovviamente a Berlino Est e grazie a lui ho potuto vedere anche un po' dietro le quinte la vita della città. Passavamo in automobile, lui aveva una gigouille ed era molto fiero e orgoglioso di possedere un'automobile per andare a casa sua e lui mi diceva questa è come un'autostrada, questa è una specie di tangenziale. Lui non amava le tracce sovietiche nella sua città, insegnava russo ma amava la Russia pre-sovietica come molti dei suoi colleghi e quindi il mio primo impatto con la Karl Marx Allais, che già si chiamava così e non più Stalin Allais, risale al 1979. Ho continuato a venire per due o tre anni, poi ho interrotto e ho ripreso già negli anni 2000 a muro caduto. Abbiamo saputo come il tuo collega guardava queste cose, possiamo anche nominarlo? Si chiamava Heinz Wilnert, ha interrotto i suoi studi russi, quando è caduto il muro ha abbandonato Berlino e è diventato un businessman in qualche altra città della Germania occidentale, quindi non ha perso tempo e ha lasciato. Forse ci vedrà? Forse chissà. In questo video? Chissà. Chissà. Ma invece abbiamo saputo come vedeva lui questo spazio, invece tu che sei cresciuto tra Torino e Milano, sei arrivato qua e hai visto queste cose monumentali. Qual era la tua prima impressione? La mia prima impressione è sono a Mosca, io già ero stato in Unione Sovietica, la prima volta nel 74 in borsa di studio a Leningrado però avevo naturalmente già visitato anche Mosca e quindi ero rimasto molto colpito del fatto che a Berlino ci fossero degli edifici che mi riportavano a Mosca. Non ne sapevo nulla, ero molto impreparato quando sono venuto a Berlino allora e ho chiesto al mio amico e collega, dico ma come mai? E allora mi ha raccontato la storia. Il 1949 il neonato Stato Repubblica Democratica tedesca aveva deciso di omaggiare Stalin per i suoi 70 anni e di costruire una strada magistrale di cui la città aveva bisogno anche per le parate, per le manifestazioni, le sfilate politiche, riprendendo il vecchio sogno di Hitler dell'asse centrale che avrebbe attraversato tutta Berlino, fortunatamente mai realizzato perché avrebbe previsto l'abbattimento di gran parte della città. La guerra avrebbe fatto strage, come sappiamo l'80% contro la città fu distrutta dalle bombe e la DDR, la Germania dell'est, decise di costruire questa arteria lunga diversi chilometri, di chiamarla Stalin in onore dei 70 anni di Stalin. E qui vorrei ricordare i protozipi di Karl Marx Allais, le vie monumentali che si costruivano nell'ottocento e nella prima metà del novecento, tra Parigi, Berlino, Roma, Mosca e Kiev. Qui vedete via Gorky, la strada principale dell'Unione Sovietica, Rachtstrasse che non è stata mai costruita, Hresciatik a Kiev costruita anche con l'aiuto di Aleksandr Vlasov. Andiamo a vedere ex Stalinale. Cominciamo. Pagare attenzione a queste panchine quasi fiorentine che ci ricordano i palazzi rinascimentali di Rucelai a Firenze, con le panchine dove la gente, passanti, potevano riposare. Le cose che in realtà a Mosca non hanno fatto. Non c'era questa figura di... di flaneur, di pedone urbano. Che noi oggi facciamo flaneur invece a Berlino hanno pensato a flaneur. Anche a chi si doveva riposare, oltre che sfilare, camminare e marciare. Sì, assolutamente. Può essere curioso ricordare che la gran parte di questi edifici sono stati costruiti con mattoni recuperati dalle macerie della guerra. Berlino era un immenso cumulo di macerie e sono passate alla storia le cosiddette donne delle macerie, Trümmerfrauen. Le donne che hanno costruito delle catene umane e raccolto dai mucchi in formi i mattoni ancora usabili, li passavano a secchiellate e con questi mattoni si è iniziata la costruzione di questa immensa arteria, di questi splendidi edifici. Possiamo dire splendidi perché al di là del significato politico che hanno avuto erano edifici di grande prestigio. Ottenere un appartamento qui era un sogno per molti. Sappiamo che lo Stato Socialista idealmente non conosceva privilegi, quindi in teoria non ci sarebbero state figure che avrebbero meritato più di altre su un appartamento in queste nuove case così comode e così esteticamente belle. Poi George Orwell ci ha insegnato che ci sono gli uguali più uguali degli altri e ricordiamo però che erano ambitissimi anche perché c'era l'acqua corrente calda e fredda, c'era il riscaldamento centrale, c'era un custode al pian terreno, c'era l'ascensore, c'erano splendidi pavimenti di legno, fornelli elettrici e l'affitto puramente simbolico costava 90 pfennig, cioè 90 centesimi al metro quadro, quindi assolutamente irrisorio. Hai conosciuto qualcuno che ha vissuto qua? Ho conosciuto una sola persona che ha vissuto qua, una signora, un'anziana signora che oggi non c'è più e mi aveva detto, mi ha raccontato di quando lei e il marito, all'epoca giovani, avevano avuto il privilegio di poter avere un appartamento qui e che ricordava che chiamavano questi palazzi i castelli degli operai, quindi molta ritorica, ma, diceva lei, anche sostanza. Ovviamente l'orgoglio di far parte di uno stato di quel genere all'epoca competeva con eventuali contestazioni, non tutti erano così convinti e sicuri della bontà dell'esperimento socialista, ma investimenti come questi che stiamo vedendo davano grande soddisfazione e soprattutto a chi riusciva a venirci a vivere. Assolutamente. Aggiungerei solo che questo era anche uno dei quartieri di Berlino più distrutti, Friedrich Hein, vero? Durante la battaglia per Berlino nel 45. Dall'altro lato della strada, che era in realtà il primo, il primo arrivato su questa Stalinalè, su questa Car Massalè, perché la costruzione della strada inizialmente prevedeva una stilistica razionalista. Era in realtà una delle prime donne architette di Germania di origine russa, Ludmilla Erzenstein, che ha progettato due palazzi che in realtà doveva, doveva, tutta la strada doveva essere così. Doveva essere improntata a questo stile. Secondo l'idea originale di Hans Scharoun, il grande architetto che ha fatto il primo progetto del piano regolatore di Berlino, di ricostruzione di Berlino. Però poi, visto che il suo piano regolatore era della chiave modernista e soprattutto non prevedeva la ricostruzione del sogno ottocentesco di una grande arteria con grandi palazzi, anche palazzi per operai, che sembrano una cosa così fantastica, un po' assuridista. Lui è stato preferito invece dagli altri architetti e alla fine gli unici rimasti da questo iniziale concetto furono un po' oscurati dalle pioppe, che praticamente d'estate non si vedono, sembrano frusciocchi. Invece sono del 49. La leggenda che conosco io, non so se sia autentica o fantasia, è che i pioppi sono stati voluti per coprire questa citazione del Bauhaus che all'epoca era stata considerata capitalistica, formalista e decadente. Infatti l'architetta ai suoi esordi ha lavorato con il grande maestro di razionalismo berlinese, con Bruno Taut. E se uno guarda queste facciate, questi palazzi e dall'altro lato vedrà che sono sempre gli stessi palazzi di Zilung degli anni 20 e 30, che furono costruiti in quei tempi. Però, parlando del formalismo che era infatti abolito, ma era abolito non per tanto, perché poi è arrivato il momento di costruire una grande cinema. Il cinema Cosmos. E il cinema era costruita ormai nel periodo che possiamo chiamare il periodo del disgelo, anche se in Germania qua non si usa questo termine. Tu sei stato in questo cinema? In Italia, sì, sono stato in questo e sono stato anche al chino internazionale che c'è più avanti. Anche su queste due realtà ci sono delle storie curiosi da raccontare, forse racconteremo quella del cinema successivo. Hai citato l'epoca del disgelo, quindi anticipiamo quello che diremo quando arriveremo alle case dell'epoca di Khrushchev. Lo stesso Khrushchev intervenne dopo la destabilizzazione, quando la via già non si chiamava più Stadina-Leh, ma Karl-Marz-Leh, invitando gli architetti a lavorare con più semplicità, risparmiando e investendo nelle vere esigenze dei lavoratori. Sappiamo che in Unione Sovietica le Khrushchev, cioè gli appartamenti, dei modestissimi appartamenti. Minimi, possiamo dire. Assolutamente ridotti al minimo le esigenze minime che una persona potesse avere, ma avevano il grosso vantaggio di non essere in coabitazione. Quindi l'idea di Khrushchev era di garantire ad ogni cittadino sovietico un appartamento individuale. Ricordiamo, per chi non fosse al corrente della questione, perché la maggior parte della popolazione sovietica viveva in coabitazione nelle appartamenti comunitari e condivideva con altre famiglie l'uso dei servizi igienici, della cucina, del bagno e di tutto il resto. Quindi l'investimento khrushcheviano fu apprezzabile e notevole. Molte di queste case sono ancora in piedi adesso, a quanto necessariamente. La maggior parte di loro sono in piedi adesso. E ancora abitate. E adesso, perché visto che c'è ancora un po' di sole, vorrei chiederlo... Tiemna area, non tiemna. Absolutamente... Tiemna area. E' proprio buonina, buonina. E' proprio buonina. E' proprio buonina, buonina. E' proprio buonina. Stiamo parlando dell'alberazione che ricorda i viali di Mosca. Boulevard, dell'anello dei boulevard. Boulevard Necalzò, sì. Boulevard Necalzò. E anche qua abbiamo gli stessi tildi. Invece, volevo parlare proprio sul concetto come si arrivava a vivere in queste case. Allora, non si poteva comprare un appartamento qua. No. Doveva essere qualcuno, vero? La proprietà privata non esisteva, quindi si poteva soltanto avere in affitto e c'erano delle categorie privilegiate, quindi prima di tutto i funzionari del partito, poi chi si era distinto per particolari metodi, meriti professionali o politici o sociali e poi scendendo nella lista di attesa anche persone comuni assolutamente. D'altra parte gli appartamenti erano moltissimi, sono case di diversi piani, per due chilometri lungo entrambi i lati della Grande Arteria e di case, gli appartamenti se ne avessero disponibili parecchi. Avevano i balconi, che erano in particolare abbastanza insolito per Berlino, nell'architettura tradizionale della vecchia Berlino per lo meno, e molti loggiati con delle balconate delle colonne, delle statue che ricordano l'architettura staliniana già negli anni 30 quando a Mosca Stalino aveva voluto riclimatizzare la città per dare l'illusione che Mosca fosse quasi una città mediterranea e quindi aveva fatto colmare gli interni, mi riferisco soprattutto all'albergo Mosca della capitale sovietica di allora, che era pieno di palme, di fontane, come se effettivamente Mosca non fosse la città dell'inverno, i gelidi e freddi e tutto questo si è riproposto anche in queste coppie di architettura staliniana in Germania, a Berlino estero. Un particolare curioso sono anche i lampioni, che non sono i classici lampioni della Dederi, un modello molto semplice e sobrio, ma sono monumentali quanto il resto degli ambienti richiedevano. Potevano certo essere di fronte a palazzi come questi dei lampioni piccoli, modesti e bruttini. Questi sono originali d'epoca e sono sia come proporzioni che come stile in sintonia con il resto dell'insieme. In questo Bremische Kiushe, possiamo dire che qua c'erano i ristoranti di tutte le capitali dell'estero. Ah, capito. Dunque questo è uno delle ultime cucina ciposlovacca. Ah, e tu ci sei stato? Si. Si mangiava bene? Si mangia bene, si mangia bene. Sono stato prima della pandemia, si mangia bene. Pensare per stasera se non abbiamo altrimenti. Capito. Anche l'interno sembra abbastanza originale. Allora in questa via furono aperti molti ristoranti, caffè, abbiamo già visto anche dei cinema. Un particolare curioso è che c'erano i ristoranti dedicati alla cucina etnica di tutti i paesi del patto di Varsavia. Quindi un ristorante praghese, poi c'era quello ungherese, c'era quello russo naturalmente, arriveremo a vederlo, ed era anche una specie di ripasso sull'amicizia tra i popoli, il concetto retorico fondamentale, e forniva l'occasione ai cittadini di Berlino di sperimentare piatti diversi da quelli della cucina nazionale. Era un po' diventata la via della movida, come si potrebbe dire oggi. C'erano caffè, c'erano i famosi milk bar, i bar latteria, gelateria, dove non si servivano alcolici, e c'erano locali che nella storia della cultura giovanile di Berlino sarebbero stati importanti e fondamentali. Ne parleremo più dettagliatamente quando arriveremo a vederne qualcuno. Perfetto. Il ristorante Giorgiano non c'era? Non c'era, no. Dunque... No, c'era Moskva. E poi tutto costava pochissimo per te, vero? Anche tu sei stato giovane docente in quel momento lì, vero? Sì, sì, ero giovanissimo precario. Precario? Già si usava questa parola negli anni 70? Sì, sì, si usava e come la precarietà non conosce limiti cronologici. Io venivo da Berlino Ovest, quindi ogni giorno, ogni volta che passavo il muro, la frontiera, dovevo cambiare obbligatoriamente 25 marchi. 25 marchi dell'Ovest in cambio di 25 marchi dell'Est al cambio ovviamente ufficiale. nessuno si azzardava a cambiare nero, anche se era molto più conveniente, perché i controlli erano severissimi e a tappeto. E quando arrivavo a Berlino Ovest, con 25 marchi che erano una cifra considerevole per il settore orientale, ero ricco e allora gli amici che mi ero fatto nel frattempo e li invitavo sistematicamente a pranzo e a cena perché non avrei potuto ricambiare i marchi orientali in marchi occidentali. Andavano spesi o abbandonati. Era proibito. Era proibito. Si sapeva che quello era un investimento obbligatorio senza ritorno. e allora offrivo da bere e da mangiare con piacere agli amici dell'Est che ricambiavano naturalmente i migliori. Mi sentivo il Pascià dell'Ovest, il capitalista che arriva. Ma spiegami un po', dunque anche venendo a questo convegno all'Università di Humboldt non potevi rimanere a dormire in un albergo? Si, quando sono venuto per il convegno ero ufficialmente stato invitato a Berlino Est e avevo diritto di dormire qui in una casa dello studente visto che allora appunto ero giovane, poco più che studente ero agli inizi della mia carriera professionale e in quella circostanza sono rimasto a Est sono andato un giorno a Berlino Ovest per vedere la città che non avevo mai visto e poi sono tornato ad Est dove avevo la residenza. Negli anni successivi, quando sarei tornato anche per trovare questo amico e collega con cui avevo fatto amicizia non potevo stare a Berlino Est perché non avevo un invito ufficiale lui non era in condizione di poterli invitare a casa sua come si sa per invitare e frequentare gli stranieri non era ben visto né nella Unione Sovietica né nei paesi satelliti Cioè li poteva creare i problemi? Si, avrebbero potuto avere dei problemi se avessero invitato gli stranieri in casa propria poi ci si frequentava liberamente, si andava in giro insieme, si andava a cena, a pranzo, a passeggio però ogni sera a mezzanotte c'era il terribile e tristissimo rito mi accompagnava a quello che si chiamava il Palazzo delle Lacrime che oggi è stato restaurato ed è una specie di museo a Friedrichshaus dove ci si infilava nei sotterranei che prevedevano il controllo dei passaporti controllo doganale, controllo del visto che davano accesso al binario della S-Bahn che portava verso Berlinoves quindi il Palazzo delle Lacrime era una costruzione che esiste ancora oggi è stata restaurata ed è diventato un museo e dava l'accesso ai sotterranei dove si svolgevano i controlli di passaporto, doganali e visto attraverso i quali questi camminamenti controllati da caniluppo, poliziotti eccetera si arrivava al binario della S-Bahn nella stazione di Friedrichshausse e da cui partiva il treno per Berlinoves quindi soltanto chi aveva superato tutti i controlli poteva accedere a quel binario che dai cittadini dell'estero ha guardato come qualcosa di mitico, di spaventoso, di agognato, di terribile e gli amici che mi accompagnavano erano ovviamente mano a mano che si avvicinava l'ora della separazione come Cenerentola si doveva tornare entro mezzanotte diventavano sempre più nervosi, sempre più arrabbiati e ci salutavamo in fretta e furia perché era un rito che si compiva tutte le notti e che per loro non a caso il palazzo è stato chiamato delle lacrime perché era il luogo di separazione i cittadini dell'est dicevano addio ai loro amici parenti che tornavano in un territorio loro proibito dunque erano anche amici personali vicini, Druk, non solo conoscenti, accademici abbiamo fatto amicizia e ci eravamo poi ritrovati anche negli anni successivi ai soliti convegni di docenti di russo ricordo a Praga poi questo mio amico era molto fiero del fatto che rispetto all'Unione Sovietica la vita della Germania dell'est fosse più libera e più rilassata mi faceva notare come non si dovessero fare le code per entrare ai caffè e ai ristoranti come ci fosse sempre posto come l'atmosfera fosse molto più distesa rispetto all'Unione Sovietica ho già detto che aveva un'automobile di cui era molto fiero e per quanto non apprezzasse la politica della DDR rispetto all'Unione Sovietica sottolineava sempre la positività della Germania est rispetto all'URSS questo era un punto fisso nei nostri discorsi è un punto fisso nei nostri discorsi dei nostri discorsi le dottor